E' qui su FIFA 20 a fare questo video perchè ho finito le emissioni di Luca Spaghetà Football Day Vediamo se si sono fatte perchè prima ho fatto un'altra clip però non c'era fatta Si ho finito Luca Spaghetà, godo, si Abbiamo finito le emissioni di Luca Spaghetà E abbiamo sbloccato Vediamo, Luca Spaghetà Buono, ho finito le emissioni di Luca Spaghetà Adesso andiamo a aprire anche i pacchetti Vediamo che esce Aspettate Ok, apriamo prima questo Ok, questo fa schifo Questo altro qua è il pacchetto Mega, lo rimaniamo per ultimo Ok Adesso apriamo questo qua Penso che non esce niente da qua dentro Vediamo No Ok Adesso apriamo il pacchetto Mega Ok, ragazzi vediamo apriamo questo Un walk out, dai un walk out Ok Walk out, vediamo Spagna 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 Barcellona Ah, Sergio Bruschetta Bruschetta Buono Sergio Bruschetta Buono Ragazzi abbiamo trovato al Sergio Bruschetta Buono Ragazzi, un 89 Non sono nemmeno scambiabili Vabbè Ragazzi, il video finisce qua Iscrivetevi al canale Lasciate like E Bella